Presidente, allora è il giorno della presentazione, nuovo allenatore Marco Mariotti, perché questa scelta? Perché si doveva cambiare nulla di personale assieme ai confronti di Maurizio Ridolfi, che è una persona comunque molto per bene, che ha provato a fare un percorso, a prescindere da questo i numeri in questo momento di stagione ci obbligavano comunque a fare un cambio. E' stato fatto anche velocemente, sono stati sentiti tutta una serie di allenatori che alla fine la scelta è capitata peraltro al photo finish per Mr. Mariotti, che si è liberato proprio dall'Albenga tre ore prima, quattro ore prima di quando ci siamo poi sentiti. Una scelta del Presidente Stefano Commini? Una scelta della società, la scelta ce l'ha sempre il Presidente, la scelta finale sull'allenatore, non so dove, ci sono film diversi, però in tutte le squadre ha cominciato dalla prima categoria, finanziaria, l'ho ripetuto anche prima in conferenza stampa, sicuramente poi Mr. Mariotti, tra le varie persone che ho ascoltato, mi è sembrata quella più indicata sia per percorso sia per esperienza, perché a mio giudizio in questo momento ci vuole un Mr. D esperienza. Il Mr. Mariotti solo in serie D penso abbia più di 300 panchine, 340 panchine, adesso non ricordo, però a mio giudizio è la persona giusta, anche il carattere forte e giusto per poter nulla togliere tutti gli altri Mr. che ho ascoltato, tra i quali c'è stato anche Maccarone, mercoledì sera, prima di prendere la decisione ho ascoltato anche Maccarone, a cui rinnovo la mia stima sia come grande giocatore ma anche come Mr. e poi però una scelta finale va fatta. La posizione del direttore sportivo Gianluca Berti? Ci siamo incontrati anche oggi con Gianluca, ad oggi è il direttore sportivo del Prato, prossima settimana avremo un ulteriore confronto e decideremo poi come e se proseguire insieme. Perché questi incontri? Ah, gli incontri perché? Perché diciamo che il direttore era molto orientato su un unico profilo, che era quello ovviamente di Maccarone, era doveva essere quello, punto e basta. E chiaramente io in una collaborazione mi aspetto, ne parliamo 4-5 e poi, però lo sapete, Gianluca ha un carattere forte, è una persona a cui peraltro io sono anche legato, affezionato, anche molto gradevole, stavamo ridendo insieme lì, per cui niente di personale, però è chiaro che poi dopo una scelta va fatta. Io come sapete in passato ho sempre rispettato le scelte di tutti i vari direttori generali, i direttori sportivi, forse se avessi scelto in modo diverso le cose, che ne sai, sarebbero andate in modo diverso. Quest'anno ho deciso di fare una scelta in una direzione. Si recusce o no? Non lo so, io vorrei con grande piacere, ma vi ripeto, non è una questione personale, per cui lo vedremo nella prossima settimana. C'è il derby numero 100 della storia, c'è da vincere e basta. No, assolutamente, ma tutte le partite c'è da vincere e basta. Questa è la partita delle partite, forse è la partita delle partite di tutta la gestione di quando sono qua, perché è anche la numero 100. Detto questo, assolutamente non c'è nessun altro obiettivo.